Posso? Vi auguro il meglio di questo mondo e grazie per l'esperienza che mi ha regalato qua in questo sero. È stato quasi come una famiglia, più che un semplice pernottamento. Siamo diventati tutti i miei amici e posso dire che non c'è una singola persona che abbia mai odiato. Vediamo tutti quanti! Oh!